Io penso che l'Europa non c'è perché è vittima del pacifismo, nel senso che forse anche perché legittimamente scottata, traumatizzata, impaurita da quello che è successo 70 anni fa, ha deciso di prendere una strada, quella appunto del non armarsi, quando invece la pace la garantiscono le armi, cioè sulle nostre case, nelle nostre città, la pace sociale è garantita dai carabinieri in armi, perché se non ci fossero i carabinieri in armi ogni sera sarebbe un far west, allora l'Europa ha deciso di disarmarsi per certi versi. E' garantita dalla scuola, dall'educazione, è garantita da un modo di vivere civile, ma una cosa non esclude l'altra, ma una cosa non esclude l'altra, è ovvio che dobbiamo educare la gente in un certo modo, ma siccome è un'utopia di fare la propaganda, per favore. Che noi riusciamo a raggiungere tutti, ci saranno sempre nella società, nelle nostre società ci sarà sempre un tasso di delinquenza, nel mondo ci saranno sempre dei dittatori delinquenti, per quanto si studi, per quanto si legga, per quanto si insegni. Quindi, a garantire la pace, sono le armi... Sallusti, ma allora deve fare un po' di andare in guerra, ma perché non fa un editoriale per proporre che l'Italia entri... Scusi, io non ho ancora letto un editoriale di Sallusti che propone che l'Italia entri in guerra contro Putin. Perché se lei fa un editoriale così, Sallusti... Ma noi lo siamo già in guerra contro Putin. No, per favore, non faccia battute, perché siccome stiamo parlando di cose serie, io penso che bisogna finirla di fare battute, come quella di prima, che chi pensa come me, che il problema dell'Europa sia la sua incapacità diplomatica, sia la contraddizione di un'Europa che continua a comprare ogni giorno petrolio e gas da Putin, con cui Putin finanzia la sua guerra e che contemporaneamente non faranno fra i zoni. Non è uno, quello come me, che non sa riconoscere chi è l'aggressore e l'aggrito. Io lo so riconoscere benissimo. Putin è l'aggressore, gli ucraini sono aggriti e io sto con le vittime. Penso che per starci in modo efficace, però, si deve fare quello che oggi non facciamo. Fare sanzioni economiche più dure, fare sanzioni più dure e magari anche costruire un protagonismo diplomato. In Italia c'è molte persone...